Come mi trovi? Come una belva in libertà. Grazie del complimento. Fortuna che è arrivata l'amnestia, se non là dentro mi ramollivo. Non mi aspettare così presto, eh? Si direbbe che ti dispiace. Hai indovinato. Tu sei sempre la stessa. A Milano hai lasciato un sacco di rimpianti. Falla finita. Che cosa vuoi? Non ricominciare, se che a me le domande non piacciono. Il tuo bastardo è là dentro. Ah, è un bel posto. Sarà anche cano. Tieni. Adesso vai dalle monache e gli dici che se lo tenga una pensione completa. Dai, muoviti. E perché dovrei...